Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla strada di grande comunicazione FIPI-Li. In A1 in direzione Bologna, tratto chiuso per lavori tra Aglio e Roncovillaggio, fino al 28 febbraio. Sempre in A1 per lavori domani notte, nella notte di martedì 8 febbraio, in orario 22.6, resterà chiuso lo svincolo di Firenze Nord in entrata in direzione Bologna. Per quanto riguarda la viabilità cittadina, Firenze e Via del Campanile resterà chiusa fino al 14 marzo da Via della Canonica a Piazza Duomo. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!